Perché sono qui? Perché sono qui, volete sapere? Perché cerco quei due. Perché sono i suoi attori preferiti, direte voi, e vuole incontrarli. Più che incontrarli, voglio scovarli, quei maledetti. Non sono mica una poppante io. L'ultima volta che ci siamo parlati eravamo al bar, qui sopra, quello della televisione. Soffiava un vento caldo. Io entro nel saloon, sono sola, ordino un panino al prosciutto, con sottaceti. Iaah! Faccio sbattere dentro maionese e sale. Sto per addentarlo quando entrano loro. Sì, d'angelo e magni. Vengono verso di me, camminando a cinque pollici da terra. Vi lascio immaginare perché. Mi si gettono addosso, mentre uno mi tiene l'altro a dente il panino, così a turno fino a che non è rimasta una briciola. Fate che li becchi, questa è la serata buona. Iaah! Sapete cosa voglio dirgli? Che i sottoaceti non sono ancora abbastanza marinati.